Musica Ammazzato in strada e caccia l'assassino, l'omicidio di Angri nel Salernitano costato la vita ad un 35enne. L'uomo è stato colpito da diversi fendenti e forse da un colpo di pistola per poi essere lasciato agonizzante a terra nella notte. E' morto distanguato. Uccisi a colpi di pistola per un'aste immobiliare, le indagini sul delitto di Marco e Claudio Marrandino ad Orta di Atella in provincia di Caserta. Si segue la pista della proprietà contesa. Il sindaco di Cesa chiede di non diffondere le immagini e invoca rispetto per le vittime. Folla sulle spiagge libere, sdraio sempre più care. Ultimo fine settimana di primavera contraddistinto da sole e caldo. Da Napoli a Salerno è corso ai tratti di litorale non a pagamento. Visti i costi, proibitivi per un ombrellone. Ma servono più servizi, spiegano i bagnanti. Adotto Channel. L'ite sul futuro dell'industria italiana autobus, timori per i lavoratori. Il via libera del Ministero delle Imprese all'accordo con Seri non convince il sindacato. Critica la regione Campania, priorità alla salvaguardia occupazionale. Perplessità anche dal deputato Rotondi che dice no a fuga in avanti. Turismo e cultura a Benevento promossa. Tante presenze domenicali nel capoluogo Sannita. In una giornata contraddistinta dagli ottimi riscontri per i siti culturali. Riflettori anche sulla salute con Benevento cammina che ha richiamato tanti appassionati. I carabinieri hanno acquisito anche le immagini di videosorveglianza pubbliche e private della zona per provare ad avere indicazioni utili sulla morte del 35enne di Angri deceduto dissanguato la notte scorsa. La vittima, stando alla ricostruzione dei militari del reparto territoriale di Nocere Inferiore, è stata aggredita intorno alle 3, a poca distanza dall'incrocio tra via Risi e via da Procida. Diversi fendenti lo hanno raggiunto al corpo e non si esclude che il 35enne possa essere stato centrato anche da un colpo di pistola. Elementi che potrà stabilire con certezza solo l'autopsia disposta dalla procura nocerina. Il PM Michele Migliardi, che coordina le indagini, ha disposto l'esame necroscopico. La salma dell'uomo è stata trasferita all'obitorio dell'Umberto I. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori. Tra queste si fa strada all'idea che il 35enne possa essere stato ucciso al culmine di una lite avvenuta nella zona della Movida di Angri. La certezza è che la vittima, dopo essere stata colpita, è stata lasciata agonizzante in strada. Mentre perdeva sangue è riuscito a percorrere alcuni metri per poi accasciarsi a terra. Sull'asfalto i segni evidenti del sangue, così come la disperazione dei familiari della vittima, giunti sul luogo dell'omicidio. Duplice omicidio interviene il sindaco di Cesa che invita a fermare la divulgazione di foto e video dell'episodio chiedendo rispetto per le vittime e per le famiglie. Proseguono intanto le indagini sul caso. No alla pornografia dell'orrore è la sintesi del messaggio divulgato da Enzo Guida, sindaco di Cesa nel Casertano, all'indomani dalla tragedia che ha riguardato i fratelli Marrandino, uccisi in strada a colpi di pistola. Il sindaco infatti attraverso i canali ufficiali personali, attraverso quelli istituzionali, ha chiesto di interrompere la divulgazione di foto e video dell'episodio. È il momento del dolore, ha scritto in una nota il primo cittadino, e chiediamo rispetto soprattutto per le due vittime. Stiamo assistendo alla circolazione di foto e video dell'episodio e questo è qualcosa di molto brutto. Chiediamo a tutti di non condividere queste immagini atroci, chiediamo alla comunità di rispettare il dolore ed è il miglior modo questo per onorare la memoria di Marco e di Claudio. Intanto proseguono le indagini dopo il fermo di un operaio di 53 anni incensurato sulle responsabilità e sul movente che ha portato al duplice omicidio. Esclusa la pista della criminalità organizzata, visto che sia i due fratelli Marrandino che il 53enne fermato non avevano precedenti penali o problemi con la giustizia. Si indaga su questioni economiche, forse legate al mondo delle aste giudiziarie, in cui operava Marco Marrandino, avvocato quarantenne con un passato in politica. Ma non si esclude totalmente l'ipotesi del delitto d'impeto, forse legato a questioni di viabilità. Grave incidente stradale a Villa Ricca nel Napoletano. Due moto si sono scontrate ieri sera intorno alle 23 in via Palermo. Un 28enne ha perso la vita, altre due persone, un uomo e una donna, sono state ricoverate in codice rosso tra il Cardarelli e l'ospedale di Pozzuoli. La procura partenopea ha aperto un fascicolo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Marano. È tornata in azione la banda degli esplosivi. Stavolta i malviventi sono entrati in azione a Serino. Preso di mira il bancomat dell'ufficio postale, erano le 3.30, quando un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat esterno dell'ufficio postale di via Fontanelle. I banditi si sono impossessati del bottino, ancora da quantificare, e si sono dileguati rapidamente. Dopo pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Solofra che stanno eseguendo i rilievi anche con il supporto degli artificieri. Le indagini sono ancora in corso. Caldo e sole hanno spinto migliaia di campani a riversarsi in spiaggia. Da Napoli a Salerno sold out soprattutto sugli arenili non a pagamento. Adotto Channel i bagnanti dicono lì di troppo cari potenziare le spiagge libere. Vediamo. Da Napoli a Salerno lo scenario è pressoché lo stesso. Nell'ultimo weekend di primavera le spiagge presentano già un colpo d'occhio d'estate inoltrata. Tutti a mare per sfuggire alla calura e per godersi qualche ora di meritato riposo. Pienone che riguarda soprattutto le spiagge non a pagamento. Il caro ombrellone infatti anche quest'anno ha spinto tanti ad usufruire dei tratti di spiaggia libera. Non possiamo spendere 100 euro per portare a mare i nostri figli. Il pensiero più diffuso tra i bagnanti. A Posillipo sono andati subito sold out i circa 500 posti disponibili sulla spiaggia delle Monache. Folla anche a Pietrarsa dove il mare è tornato balneabile a distanza di 30 anni. Stesso scenario anche nella vicina Salerno dove le spiagge del lungomare restano sempre tra le più gettonate. Qua è buono perché non si paga prima di tutto. Una spiaggetta libera però il comune potrebbe fare di più. La potrebbe più pulire, spianare. Qui stiamo bene, l'acqua è limpida e ne vale la pena. Venire qui su questa spiaggetta è spettacolare. Sole, mare, relax. Qui si sta da re. Non ci dobbiamo lamentare. Abbiamo le docce, abbiamo la spiaggia pulita, abbiamo il mare pulito, abbiamo tutto. Non paghiamo niente. E che ci contendino? Ed in Campania è stato ancora un fine settimana all'insegna del turismo. Vi siete guidate alla Baia di Ieranto ad opera del FAI. Vediamo. Ancora un fine settimana con temperature che preannunciano ormai l'inizio ufficiale dell'estate. Molti gli eventi in Campania, regione che continua a far registrare numerose presenze. A Napoli e non solo. E nell'ambito delle giornate europee dell'archeologia, il FAI torna ad aprire le porte dei suoi beni archeologici. Sette, i siti scelti in tutto il paese. In Campania si tratta della Baia di Ieranto a Massa Lubrense. Sicuramente sono iniziative sempre molto seguite da tanti affezionati che seguono il FAI e non solo. La Baia, oltre alla visita e quindi il racconto, sarà focalizzato sui sistemi di comunicazione in un punto strategicamente importantissimo, quale appunto Punta Campanella che guarda i golfi di Napoli e i golfi di Salerno. Presenze che confermano un importante interesse anche per il turismo culturale. C'è sempre tantissima attenzione. Ormai c'è una grandissima fetta di cittadini che segue, aspetta e si informa circa le iniziative del FAI che sono veramente tantissime in tutta Italia. Le aspettative sono molto alte e credo che tutti ne siamo consapevoli e cerchiamo di dare il massimo. Intanto a Napoli si lavora al nodo trasporti. Attesa per la riapertura della funicolare di Chiaia, pronto al primo treno, si punta a riaprire l'impianto entro la fine dell'anno. Si procede a pieno ritmo, assicurato l'assessore ai trasporti, Edoardo Cosenza, con un post sui social, mostrando anche le foto del treno. Il futuro dell'industria italiana autobus non comincia l'accessione al gruppo Seri, i dubbi della regione e di Gianfranco Rotondi. Vediamo il servizio. Il futuro dello stabilimento industria italiana autobus di Flumeri continua ad agitare il dibattito politico istituzionale. Nelle scorse ore è arrivato il via libera dal Ministero delle Imprese a Invitalia di procedere all'accordo con il gruppo casertano Seri Industrial per la cessione. Ma la regione Campania ha bacchettato la scelta dell'esecutivo. L'unico vero obiettivo deve essere quello di garantire l'occupazione piena dei due stabilimenti, di Bologna e Flumeri. Sono pertanto assolutamente condivisibili le garanzie che chiedono i sindacati e devono essere verificate e discusse tutte le proposte di acquisto. Anche il deputato irpino Gianfranco Rotondi esprime i propri dubbi, un ritenuto di affiancare le parti sociali nella richiesta al governo di un passo indietro rispetto alla cessione. È giusto anche per un parlamentare di maggioranza deporre a margine qualche perplessità. E intanto i lavoratori di Flumeri restano sul piede di guerra. Il governo Meloni deve spiegare agli italiani per quale motivo sta cedendo lo stabilimento nelle mani di un soggetto poco affidabile, oltre che a una serie di fallimenti alle spalle. Anche qui nella nostra provincia abbiamo l'esempio della FIB Sud dove i lavoratori dopo anni aspettano ancora il TFR. Quindi da domani insieme ai segretari nazionali e provinciali decideremo quali sono le azioni da mettere in campo per evitare questo scempio, che l'AIA venga dismessa. I lavoratori e le lavoratrici non meritano questa mancanza di rispetto da parte del governo. Le decisioni per il loro futuro vanno condivise e non vanno imposte. Tanti turisti presenti oggi a Benevento per una giornata all'insegna di cultura e benessere con l'evento Benevento Cammina. Provi d'estate a Benevento dove con la bella stagione si inaugura un particolare percorso dedicato a storia, cultura e benessere. Oggi centro storico invaso dai camminatori per prendere parte alla bella iniziativa Benevento Cammina. Questa è la terza edizione di Benevento Cammina e sta andando bene, davvero tante iscrizioni, siamo arrivati quasi a 500 iscrizioni. Emozionante! Quest'anno abbiamo inaugurato anche Ben Canina, quindi anche i pelosetti si possono iscrivere, quindi hanno la loro pettorina. E sì, camminare significa benessere, benessere fisico, psicofisico, quindi sicuramente è una manifestazione dove l'inclusione, il benessere è la parola d'ordine. Cittadini ma anche turisti per una domenica tra divertimento, socialità e grandi emozioni. Questa è la terza edizione che facciamo ed è una cosa bellissima. Ci ha comunque la possibilità di vivere e conoscere meglio la nostra città Benevento che è bellissima. Bellissima! Noi già ci siamo stati l'anno scorso. Già abbiamo partecipato, questo è il secondo anno. Noi veniamo da Caserta, quindi Benevento è bellissima. Abbiamo una guida che ci porta ai monumenti, dobbiamo andare a vedere dei monumenti di Benevento. Una giornata fra amici, una giornata di sport, di incontro e di inclusività. Facciamo un percorso nella parte storica per far conoscere la nostra bella città ad altre associazioni. Veramente andrebbe ripetuto più volte nell'arco dell'anno. Benevento è una bella città accogliente, riservata. Da dove venite? Caserta, Santa Maria Capovetere. Sono innamorata di Benevento. Da 13 a 16 euro è l'aumento del costo del biglietto per visitare il Parco archeologico di Ercolano che scatterà dal prossimo primo luglio e già genera polemiche. Maurizio Maddaloni, agente di viaggio e rappresentante della categoria nella Fiavet, infatti parla di assenza di comunicazioni della direzione del parco e di motivazioni sconosciute alla base dell'aumento e parla di perplessità per un aumento praticato nel bel mezzo della stagione senza tener conto che i pacchetti turistici vengono venduti almeno un anno prima. Non siamo contrari agli aumenti, conclude il rappresentante degli agenti di viaggio, specie se accompagnati da maggior fruibilità dei siti e maggiori servizi, ma l'assenza di programmazione e comunicazione in merito. Ballottaggio ad Avellino, Gengaro e Nargi dicono no agli apparentamenti. Vediamo. Ad Avellino verso il ballottaggio sia Gengaro che Nargi hanno detto no agli apparentamenti. Nessun accordo sui programmi, in particolare con Rino Genovese che pure si era proposto. A questo punto non si andrà oltre la mera indicazione di voto da parte del giornalista Rai e l'orientamento in questo caso appare più probabile nei confronti della Nargi. Genovese infatti è stato chiaro, escludo di appoggiare chi ha già blindato la sua giunta e parla ancora di partiti, secca la replica di Gengaro. Credo che Rino abbia fatto già un errore a rinunciare ai simboli, in fondo lui era un centrodestra mascherato. Vedo che evidentemente la lezione che gli hanno dato gli avellinesi non gli è bastata ancora. Intanto la Nargi continua la sua full immersion tra i cittadini e annuncia con me sarà una grande estate. Siamo a ridosso dell'estate quindi uno dei primi provvedimenti è sicuramente l'organizzazione di una grande estate, saranno tre mesi di concerti, di arte, di musica, di cultura in tutta la città, per tutti i quartieri. Subito dopo o comunque nei primi cento giorni apriremo il centro autismo. Noi siamo l'amministrazione che ha finito i lavori, che abbiamo riallurato l'acquisizione sanante dei suoli e noi saremo l'amministrazione che la frirà, quindi convocheremo immediatamente un tavolo con l'Aquila e con l'Università di Salerno. Il Tg termina qui, ora ci sono le previsioni meteo. A voi tutti grazie per averci seguito. A voi tutti grazie per averci seguito. A voi tutti grazie per averci seguito.